Una collaborazione che punta a durare nel tempo, quella fra Autodis e la Clarios. Presente infatti come partner ufficiale in ogni tappa dell'X-Master Energy Tour organizzato proprio da Autodis, il marchio Varta, leader nella produzione di batterie e accumulatori. Di fondamentale importanza il rapporto diretto con officine ricambisti, che si instaura attraverso eventi di questo tipo, come racconta Angelica Germano dell'area manager della Clarios. Abbiamo avuto modo noi come componentisti di incontrare e rincontrare molti clienti sia dalla parte dei ricambisti sia dal punto di vista di officine ed è sempre molto interessante perché comunque andiamo a interfacciarci con quelli che sono i veri utilizzatori e installatori dei nostri prodotti e con cui riusciamo anche spesso ad avere dei confronti molto interessanti ma in merito a tantissimi argomenti che possono essere l'installazione del prodotto piuttosto che discorsi sulle nuove tecnologie, su appunto tutta una serie di novità che noi stessi stiamo cercando di portare nel campo e soprattutto in vista di quelle che sono le nuove tecnologie e l'avvento dell'elettrico, dell'ibrido e quindi insomma sempre proiettati verso il futuro e verso i nuovi sistemi. Diventa molto interessante conoscere e entrare ancora di più nella realtà anche delle officine stesse. Quindi sì, è sicuramente per noi una leva, si può dire forse anche un'operazione marketing nel senso di comunque immagine ma per entrambi sicuramente qualcosa di molto reciproco sono quelli i rapporti lavorativi molto fruttiferi da ambo i lati ecco. Oggi sappiamo tutti che montare una batteria non è così semplice come lo era in passato siamo un'azienda leader proprio nello specifico delle batterie AGM e grazie a questo portale che forniamo ovviamente in maniera del tutto gratuita alle officine e facilitiamo il montaggio della batteria attraverso un processo che può essere facilmente seguito attraverso il nostro portale. Naturalmente in questo caso attraverso le officine di Autodis e dei ricambisti di Autodis per noi un momento importante perché ci consente di avere un contatto diretto con le officine di dialogare con gli operatori che poi sono i veri protagonisti perché sono quelli che arrivano al consumatore finale e che grazie alla collaborazione di Autodis, dei ricambisti di Autodis e dei fornitori riescono a fornire un servizio importante al consumatore finale.